Amici sportivi di Teleidea, buonasera da Pietro Fanti e benvenuti a Scandicci Pianese. Dodicesima giornata di Serie D, Girone e il dribbling. Vede la sovrapposizione di Cauterucci, cross nel mezzo, esce di testa. In qualche modo Bernardini ci prova successivamente. Il numero 4 Martini deviata la sua conclusione che finisce anche tra le mani di Wroblewski. Ancora Poli, si è allargato Giampa. Litiga un po' col pallone, poi torna indietro, sempre per Poli, che svirgola nuovamente la sfera, come è successo un po' di minuti fa. Poi Pietro Battista, incursione centrale, vince un rimpalla, ancora Pietro Battista, tu per tu con Wroblewski! 1-0 di Pietro Battista, al 27esimo del primo tempo, Scandicci 1, Pianese 0. E lo Scandicci ha segnato il numero 10, Luca Pietro Battista! Il numero di Martini, bellissimo, e poi prova la verticalizzazione verso Saccardi, che è contro Wroblewski, ancora Saccardi, prova ad aggirarlo, sempre Saccardi, tira! E salva in un modo assurdo, Grea salva il raddoppio dello Scandicci proprio in chiusura di primo tempo. Manca una manciata di secondi, 10 addirittura, e questa è stata un'occasione importantissima. Rinvio decisamente brutto quello di Martinelli, attenzione, Giustarini lo supera! Giustarini 1-1 tra Scandicci e Pianese, al 14esimo del secondo tempo, ma papera mostruosa di Francesco Martinelli. Per la Pianese ha segnato il numero 20, Giustarini. Sempre Simeoni con il sinistro, verso Giustarini, che vince un rimpallo, è entrato dentro l'area, Giustarini con il sinistro! E qui c'è un bel miracolo, se così si può definire, dello stesso Martinelli, Pianese vicinissima al raddoppio. Martini al centro, salta, Manganelli alto, sopra la traversa, ma c'è stato il fallo proprio del numero 6 su Gagliardi. Manganelli su Saccardi, vediamo un po', è in posizione regolare il numero 18. 1-1 e poi c'è il gol in tap-in di Pezzati, al 37esimo del secondo tempo. Scandicci 2, Pianese 1. Che la dà immediatamente a Simeoni, un po' esagerato nel provare a scartare Pietro Battista, che successivamente tenta un cucchiaio abbastanza velleitario da fuori area. Tripice fischio dell'arbitro Mia Lache, Scandicci Pianese termina con il risultato di 2-1 Pietro Battista e Pezzati al 37esimo del secondo tempo per la formazione di casa. Aveva provato a riportare in partita la Pianese Giustarini, ma insomma, come avete visto, non è bastato. Mister Masi, contro lo Scandicci arriva la terza sconfitta stagionale per la Pianese. Sì, beh, oggi penso che siamo in un momento di difficoltà, andrà capito bene perché siamo arrivati a essere così in difficoltà. Cercherò di capire il perché. Abbiamo giocato male, non siamo stati noi, timorosi. Però durante il campionato questi momenti possono succedere, bisogna stare sereni, capire perché la responsabilità di quando capitano questi momenti non è certamente dei ragazzi, ma è mia perché me ne dovrei magari accorgere anche perché credo anche che sia difficile perché dagli allenamenti invece sembra che ci abbia una buona condizione. Si vede che a livello psicologico c'è qualcosa in questo momento che non gira nel verso giusto e bisognerà capire perché, se forse ci siamo un po' involontariamente caricati di troppe responsabilità e non siamo pronti ad assumerci queste responsabilità. Quindi bisognerà ripartire con tranquillità, rincominciare a fare le cose che sappiamo fare, che due partite che invece non ci riescono. Contro il Bastia lei non era in panchina, però se non sbaglio comunque ai nostri microfoni aveva detto che quella era stata forse la peggiore prestazione della Pianese nell'annata, insomma, finora trascorsa. Pensa che oggi ha fatto addirittura peggio, diciamo che si sono superati, tra virgolette, sul piano del gioco? No, ma io non devo puntare il dito contro i ragazzi. Se abbiamo fatto peggio la colpa è mia perché non sono riuscito a migliorarli da qui, da Bastia ad oggi. Se abbiamo fatto peggio è perché non ho fatto passare i messaggi giusti, non abbiamo forse capito psicologicamente che era un momento di difficoltà. Poi siamo venuti qua, non siamo stati lucidi, non abbiamo avuto idee. Questo va capito perché, perché prima eravamo una squadra con idee, con intensità, anche con personalità e ora invece siamo fragili. Siamo alla prima avversità che troviamo in campo, ci disuniamo. Oggi siamo stati lunghissimi, cosa che noi, anche domenica non giocando bene, però non siamo mai stati lunghi, invece oggi siamo sempre stati in 60-70 metri. Andrà visto bene. Cercheremo di lavorare su questo aspetto che in questo momento qua è palese, che siamo in difficoltà. Capire se è più un discorso fisico, che non credo, perché poi le vedo lavorare e quindi non ho questi segnali, forse psicologicamente stiamo accusando qualcosa che può darsi sia un... dentro noi stessi ci siamo creati delle aspettative e forse non siamo pronti per queste aspettative. In questo momento qua siamo ancora... non siamo pronti per queste cose. E allora mi riallaccio alla sua risposta. Perché la pianese trova più difficoltà con, diciamo, le ultime della classe in classifica rispetto a quelle, diciamo, che stanno più su? Ma è di adesso, perché prima non era così. Prima abbiamo incontrato anche quelle che erano con una classifica peggiore, però avevamo una tranquillità che ora non abbiamo e può darsi che questa tranquillità ce la siamo levata facendo... creandoci delle aspettative che in realtà in questo momento qui invece ci danno fastidio. Non siamo pronti ad assumerci delle responsabilità maggiori di quello che potrebbe essere il nostro abitato naturale. Ecco. Grazie.